Cosa ti ha lasciato a livello umano? Ci sono stati dei momenti di difficoltà comunque anche dovuti alla distanza? E che cosa ti sei riportato in Italia da questa esperienza in Inghilterra? Allora sì, è una scelta che fanno in pochi, però è una scelta che consiglio a tutti. Cioè se si ha la possibilità di andare in Inghilterra o comunque di cambiare paese, allontanarsi dalla propria famiglia, ovviamente avendo una certa età, perché magari allontanarsi dalla propria famiglia a 14-15 anni è molto più difficile che farlo quando per esempio l'ho fatto io a 18 anni. I momenti di difficoltà ci sono, ci saranno e ci sono stati, soprattutto perché io sono salito e dopo tre mesi ci hanno messo in quarantena a casa, io non sono mai tornato in Italia, quindi alla fine ho vissuto tre mesi da solo nel mio appartamento senza vedere la mia famiglia. Non avere nessuno con cui anche sfogare qualche momento di pressione o qualche momento di difficoltà legate al campo, perché magari l'allenamento non è andato bene, era molto difficile. E farlo al telefono non è comunque la stessa cosa che farlo faccia a faccia, quindi magari queste cose qualche volta si potevano anche riflettere sul campo. Però è anche vero che a fine anno ho vinto il campionato, ho fatto una buona stagione e credo che tutte queste difficoltà che ho avuto e che ho avuto mi stanno aiutando ora alla mia prima esperienza con i professionisti a vivere tutto in modo molto sereno, a non esaltarmi se faccio bene e a non stressarmi troppo se qualche volta faccio un errore, se magari c'è un periodo in cui con la squadra si fa più fatica.